Milano, Torino Mangio come Dio comanda Cucino fagiolini con patate e insalata di giornata Pane fatto in casa, corro dove serve Per schiacciare la testa della serpe Non mi piace stare al verde, amo il verde Passo con il verde, chi mi ama mi attende Squaglio penne, rime, ghigliottine, taglio ceste Agli scrausi rapper, trap o rap, discutere non serve Serve musica di ogni genere Serve raccontare storie vere Serve l'accendino e il posacenere Una sposa e una famiglia serve il soldo Il prodotto deve vendere Il messaggio è che sei di passaggio Crea un passaggio perché arriverà al villaggio La mia solitudine è il momento per guardarmi dentro Lo portare nei quelli più al centro Dalla quinta dimensione queste immagini mi ispirano un disegno Mi cura e mi sistemo per sentirmi al meglio Dal mio eremo, rap che lascia il segno dentro al cerchio Bella raga, ma c'è solo Ivan Rancho in diretta Dicono che in Italia non si lavora Oggi mi sento di, sento di chiamare qualche vecchio lupo Che non vedo più da quando ci hanno sciolto il branco Quindi eccomi, è come se fosse stato un attimo Un battito, panico, sono già quasi trent'anni bro Pacchi di, pacchi di problemi, pacchi di vestiti Pacchi di pazze fatte per te che non rifare più Anime cariche inverse, cani che abbaiano il buio Siamo immagine di vite diverse Dentro lo stesso futuro È inevitabile sbattere Valuta per cosa combattere Opere, opere di me restano immagini Che mi accompagnano in questa mia fredda solitudine Con la nice and harmony, one universal family Shabam Sadiq raga, ci abbiamo fatto il featuring con Shabam Sadiq Raga, porca vignotta Ringrazio gli associati Click Chrome e Greve Che hanno avuto la pazienza di creare questa bellissima collaborazione Abbiamo potuto così fare ancora nel 2018 del vero rap Oltre il singolo voglio TR Adesso faccio sentire la strofa di Shabam Sadiq Fuori, sul tubo raga Poi, sui, 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 sui Grande King Gasp, Grime, Keep on Grinding, Styling, Shabam Sadik, abbiamo fatto la collab con Shabam Sadik, Eza, Dissociati Click, DJ Grapp, Torino, vero Hip Hop, ora di un culo Family, Fista Countdown, Spend the Underground, One God, One Aim and One Destiny Non capite un cazzo perché non avete un cazzo da capire, con questo ammazzo di gente non un cazzo da spartire, tensioni tra fazioni, stazioni e canzoni con la sintassi, ho lezioni da impartire, già dal soundcheck lo stile, i primi trick giù in cortile, i primi testi in corsivo, le prime rime tra le panchine e le bustine, scrivere è l'unica cosa che mi ricorda ancora di essere vivo, e sai chi sei solo quando sei solo, L'accendi grande e capisci che sei in alto quando già sei in volo, vivo tra martello e l'incudine, per star con chi non ti ama meglio stare solo in solitudine, piove fuori e resto solitario, il countdown lake sul calendario, la vita l'odio quanto l'amo, ma è un calvario straordinario, greve Abbiamo fatto il featuring con Shaban Sadik, spargete la voce, sai come funziona? Diciamo, se si parla di musica, di cultura, di scena, spargete la voce, è il presidente di Associati Click, Shaban Sadik 2018, vero rap, affanculo, a chi non ci crede, è grazie a chi ci crede, belli Grazie Grazie Grazie